Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, oggi 25 aprile, scrive una lettera al Corriere della Sera, il giornale più imparziale o perlomeno quello che tenta di essere imparziale. La Meloni scrive appunto una lettera. Vediamo cosa dice proprio La Meloni. Dice, caro direttore, oggi l'Italia celebra l'anniversario della liberazione. Una lettera abbastanza lunga. Io stessa lo farò accompagnando il presidente della Repubblica, Mattarella, nella tradizionale cerimonia di deposizione di una corona di alloro all'altare della Patria, mentre i ministri del governo parteciperanno alle altre celebrazioni istituzionali previste. Nel mio primo 25 aprile da presidente del Consiglio affido alle colonne del Corriere alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a far di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale nel quale la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci aiuti a comprendere e rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo come imprescindibile baluardo di democrazia. Io lo faccio con la serenità di chi queste riflessioni le ha viste maturare compiutamente tra le file della propria parte politica ormai 30 anni fa, senza mai discostarsene nei lunghi anni di impegno politico e istituzionale. Da molti anni infatti, e come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. Il 25 aprile 1945 segna evidentemente uno spartiacque per l'Italia, la fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione nazista, del ventennio fascista, delle persecuzioni antiebraiche, dei bombardamenti e dei molti altri lutti e privazioni che hanno afflitto per lungo tempo la nostra comunità nazionale. Purtroppo la stessa data non segnò anche la fine della guerra civile che aveva lacerato il popolo italiano, che in alcuni territori si protrasse e divise persino singole famiglie, travolte da una spirale di odio che portò a esecuzioni sommarie anche diversi mesi dopo la fine del conflitto. Così come è doveroso ricordare che mentre quel giorno milioni di italiani tornavano ad assaporare la libertà, per centinaia di migliaia di nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia, iniziò invece una seconda ondata di Ecidia e il dramma dell'esodo delle loro terre, ma il frutto fondamentale del 25 aprile è stato e rimane senza dubbio l'affermazione dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana. Da quel paziente negoziato, volto a definire principi e regole della nostra nascente democrazia e libertà liberale, esito non umanimemente auspicato da tutte le componenti della Resistenza, scaturì un testo che si dava l'obiettivo di unire e non di dividere, come abbiamo ricordato alcuni giorni fa su queste pagine il professor Galli della Loggia, nel gestire quella difficile transizione che aveva già conosciuto un passaggio significativo con l'amnistia voluta dall'allora Ministro della Giustizia Togliatti, i Costituenti affidarono dunque alla forza stessa della democrazia e della sua realizzazione negli anni il compito di includere nella nuova cornice anche chi aveva combattuto tra gli sconfitti e quella maggioranza di italiani che aveva avuto verso il fascismo un atteggiamento passivo, specularmente chi dal processo costituente era rimasto escluso per ovvie ragioni storiche si impegnò a traghettare milioni di italiani la nuova repubblica parlamentare dando forma alla destra democratica, una famiglia che negli anni ha saputo allargarsi coinvolgendo tra le proprie fila anche esponenti di culture politiche come quella cattorica o liberale che avevano avversato il regime fascista. È nata così una grande democrazia solida, matura e forte pur nelle sue tante contraddizioni e che nel lungo dopoguerra ha saputo resistere a minacce interne ed esterne rendendo protagonista l'Italia nei processi di integrazione europea, occidentale e multilaterale, una democrazia nella quale nessuno sarebbe disposto a rinunciare alle libertà guadagnate, nella quale cioè libertà e democrazia sono un patrimonio per tutti, piaccia o no a chi vorrebbe che non fosse così. E questa non solo è la conquista più grande della nostra nazione, possa vantare, ma è anche l'unico vero antidodo a qualsiasi rischio autoritario. Per questo non comprendo le ragioni per le quali in Italia, proprio tra coloro che si considerano i custodi di questa conquista, vi sia chi nega allo stesso tempo l'efficacia, nerrando una sorta di immaginaria divisione tra italiani compiutamente democratici e altri, presumibilmente la maggioranza giudicare dei risultati elettorali, che pur non dichiarandolo sognerebbe in segreto un ritorno a quel passato di mancate libertà. Capisco invece quale sia l'obiettivo di quanti, in preparazione di questa giornata, delle sue cerimonie, stilano la lista di chi possa e di chi non possa partecipare, secondo punteggi che nulla hanno a che fare con la storia, ma molto hanno a che fare con la politica. È usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico, una sorta di arma di esclusione di massa, come ha insegnato Augusto del Noce, che per decenni ha consentito di estromettere persone, associazioni e partiti da ogni ambito di confronto, di discussione, di semplice ascolto, un atteggiamento strumentale che negli anni, durante le celebrazioni, ha portato perfino a inaccettabili episodi di intolleranza, come quelli troppe volte perpetrati ai danni della brigata ebraica da parte di gruppi estremisti, episodi indegni ai quali ci auguriamo di non dover più assistere. Mi domando se queste persone si rendano conto di quanto, così facendo, indepoliscano i valori che dicono di voler difendere e probabilmente questa consapevolezza di aver spinto Luciano Gialante a individuare, nel suo memorabile discorso di insediamento da Presidente della Camera, quasi trent'anni fa, proprio in questa certa concezione proprietaria della lotta di liberazione, uno dei fattori che le impedivano di diventare patrimonio condiviso di tutti gli italiani, un concetto ripreso nel 2009 da Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sedevo anch'io, in un altro famoso discorso, quando a Onna, celebrando l'anniversario della liberazione sulle macerie del terremoto, invitò a fare del 25 aprile la festa della libertà, così da superare le lacerazioni del passato. Un auspicio che non solo condivido, ma che voglio oggi rinnovare, perché a distanza di 78 anni l'amore per la democrazia e per la libertà è ancora l'unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi. In Italia come in Europa, una consapevolezza che ha portato il Parlamento europeo a condannare l'inequivocabilmente, definitivamente, tutti i regimi del Novecento, senza eccezioni, con una risoluzione del settembre 2019, nella quale mi riconosco totalmente che il gruppo di Fratelli d'Italia, insieme a tutta la famiglia dei conservatori europei all'intero centro-destra, votò senza alcuna esitazione una risoluzione che assume nell'attuale contesto un valore ancora maggiore dinnanzi all'eroica resistenza del popolo ucraino in difesa della propria libertà e indipendenza dall'invasione russa. In tutto il mondo le autocrazie cercano di guadagnare campo sulle democrazie che si fanno sempre più aggressive e minacciose. Il rischio di una saldatura che porti a sovvertire l'ondine internazionale che le democrazie liberali hanno indirizzato e costruito dopo la fine del secondo conflitto mondiale e la dissoluzione dell'Unione Sovietica è purtroppo reale. In questo nuovo bipolarismo l'Italia e la sua scelta di campo l'ha fatta, è una scelta netta. Stiamo dalla parte della libertà e della democrazia, senza se e senza ma. E questo è il modo migliore per attualizzare il messaggio del 25 aprile perché con l'invasione russa dell'Ucraina la nostra libertà è tornata concretamente in pericolo. E questa è una convinzione che ho rafforzato grazie all'incontro con una donna straordinaria, Paola del DIN. Durante la resistenza combatteva con le brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Fu la prima donna italiana a paragadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le valse una medaglia d'oro al valor militare che ancora oggi, quasi 70 anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio. Della resistenza dice che il tempo ci ha ribattezzato i partigiani, ma noi eravamo patrioti. Io lo sono sempre stata e lo sono ancora, nell'Italia repubblicana è stata insegnante di lettere e nonostante i suoi quasi 100 anni continuo ad accettare gli inviti a parlare nelle scuole italiane e il valore della libertà. Dedico questo giorno a lei, madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche idealmente di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria patria a ogni contrapposizione ideologica. Grazie a tutti e arrivederci a presto.